Bentornati sul canale di giornalismo del Cuore Italia 1. Le ultime notizie di oggi like Nelle scorse ore è stata lanciata un'indiscrezione bomba sulla famiglia reale italiana Vittorio Emanuele di Savoia avrebbe un altro figlio da una relazione extraconiugale Il giovane è davvero famoso, scopriamo di chi si tratta. Il figlio segreto di Vittorio Emanuele di Savoia Già da diversi giorni sta circolando la notizia riguardo il figlio segreto di Vittorio Emanuele di Savoia Il presunto fratello di Emanuele Filiberto sarebbe un famoso rapper che tutti conosciamo Avete capito di chi si tratta? Scopriamolo.Il figlio segreto di Vittorio Emanuele di Savoia, il nome Nelle famiglie reali capita spesso che spuntino fuori dai segreti inimmaginabili anche dopo tanti anni Ed è proprio quello che è accaduto alla Royal Family italiana A lanciare la bomba è stato il giornale, ripreso da Dago Spia Punto anche a pomeriggio 5 si è parlato di questa notizia shock Tutto è iniziato quando durante l'intervista a Verissimo di Barbara D'Urso, lei ha svelato che tra i concorrenti della pupa e il secchione show ci sarà il figlio di un personaggio famosissimo che non lo ha mai riconosciuto e c'è la possibilità di saperne di più proprio nel corso della trasmissione Punto da lì è partito lo scoop e dopo poco tempo è già spuntato il nome del giovane Stando a quanto ha rivelato il giornale, Vittorio Emanuele di Savoia, non avrebbe riconosciuto il secondo genito ma sarebbe stato presente nei suoi primi anni di vita In passato, il nobile avrebbe avuto una relazione extracognugale con un'avvocatessa che lavorava per lui Dalla loro storia sarebbe venuto al mondo l'ultimo figlio del re d'Italia Oggi, il giovane è un famoso re perché tutti conosciamo Lui si chiama Lorenzo Orsini, in arte l'allog, sarà tra i secchioni della pupa e il secchione, conosciamolo meglio Chi è Lorenzo Orsini? Tutto su di lui.Lorenzo Orsini, classe 2000, molto conosciuto nella scena rap italiana e anche sui social, infatti, è seguito da oltre 140.000 follower Ha aperto concerti di artisti molto importanti come quello di Gali, Gue Pechegno e Achille Lauro Attualmente sta studiando legge e uno dei suoi obiettivi è laurearsi Un ragazzo modello, infatti, oltre ad essere un bravissimo studente è un talento per la musica Di lui non abbiamo molte informazioni, ma sicuramente avremo modo modo di conoscerlo meglio durante la sua partecipazione alla pupa e il secchione show Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video